La regione siciliana ha destinato un finanziamento di 5 milioni di euro di contributi a fondo perduto per edicole agenzie di distribuzione stampa al fine di affrontare le sfide economiche scaturite dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19. Queste risorse derivano dal piano di sviluppo e coesione. Gli avvisi per accedere a tali agevolazioni sono pubblicati sul sito web dell'IRFIS. Il presidente della regione Renato Schifani sottolinea l'importanza di questa iniziativa come supporto ad un settore strategico dell'economia siciliana. Questo comparto, già in difficoltà da alcuni anni, ha visto accentuarsi la sua crisi durante l'emergenza sanitaria. Schifani evidenzia il ruolo concreto svolto dall'IRFIS, della sua piattaforma digitale, nel fornire risposte pratiche agli operatori del settore editoriale. Le imprese interessate al contributo devono avere sede legale operativa in Sicilia. Nel caso dell'edicole, il finanziamento disponibile è di 4,2 milioni di euro con un contributo massimo di 5.000 euro per ciascun soggetto idoneo che svolge un'attività primaria con codice Ateco 476210. Eventuali risorse residue dopo la distribuzione saranno assegnate in parti uguali tra i soggetti idonei che svolgono un'attività secondaria con lo stesso codice Ateco, sempre nel limite massimo di 5.000 euro per le agenzie di distribuzione stampa, il plafond finanziario è di 800.000 euro. Il beneficio sarà erogato in parti uguali a tutti i richiedenti, fino ad un massimo di 100.000 euro ciascuno per le imprese operanti al 31 dicembre 2018 e di 30.000 euro ciascuno per quelle non ancora operanti a quella data. Il contributo in entrambi i casi non potrà superare un terzo del fatturato aziendale del 2019. Per entrambi gli avvisi le domande devono essere presentate esclusivamente online dal rappresentante legale dell'azienda all'indirizzo incentivisicilia.irfis.it mediante a spido carta nazionale dei servizi e devono essere firmate digitalmente. Le domande devono essere presentate dalle ore 10 di martedì 23 gennaio 2024 alle ore 17 di mercoledì 7 febbraio 2024.